Musica Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV questa è la rassegna stampa, rassegna stampa che torna all'antica per un giorno con i giornali cartacei, il profumo della carta allora cominciamo dal santo del giorno se ce l'abbiamo sì, Beato Ambrogio Traversari, è stato un monaco il sole è sorto alle 7.08, tramonterà alle 16.39 allora dobbiamo saltare tutto quello che riguarda la tecnologia quindi anche le previsioni del tempo con il sito internet però abbiamo già detto e visto, magari lo facciamo con il messaggero eccolo qua, con la pagina del messaggero le previsioni le guardiamo direttamente da qui, qui sotto eccolo qua, torniamo come davvero i vecchi tempi non è male però questa cosa allora il maltempo è in arrivo il cambiamento meteorologico da giorni annunciato è alle porte oggi il tempo reggerà ancora il cielo sarà da poco nuvoloso a velato e solo in serata le nuvole si faranno compatte sull'appennino dove nella notte inizierà a piovere debolmente poi venti in rotazione da Libeccio con raffiche dalla serata sul Monte Feltro poi domani, domani moderato peggioramento con cielo nuvoloso e precipitazioni spazie questo è il tempo che abbiamo letto dal messaggero allora andiamo subito sui giornali, cominciamo dal resto del carlino la prima pagina, eccola qua, come Pavarotti come Pavarotti Joan Diego Florez, tenore rossignano e pesarese d'adozione canta questa sera a Parigi e al ROF farà una serata con i suoi friends per i vent'anni del festival poi sopra sul carlino vedete il ciclone questo ciclone cancellato d'imperio il comune respinge le accuse Murales da street art eliminato dai difensori dei muri la rimozione però è stata giudicata illegittima poi oggi c'è l'addio a Francesca l'incrodulità e lo sgomento da parte degli amici sotto invece la cronaca vende l'auto ma le rifilano un assegno falso allora andiamo dentro nelle pagine del resto del carlino e appunto prendiamo di questa truffa una truffa con la compravendita di auto online eccola qui auto vendute da privati le pagava però con degli assegni falsi è stato denunciato una vettura è stata rimatricolata in Romania e poi spedita in Austria una signora è la vittima una signora aveva messo in vendita la sua Tiguan con una inserzione su un sito confidando nell'affare gli agenti sono riusciti dalla polstrada a rintracciare il truffatore e a ritrovare la vettura sarà un addio con tanti perché oggi l'ultimo saluto a Chicca parenti e amici e l'intera comunità di Vallefoglia attoniti per la morte di Francesca i compagni di scuola della ragazza che giocava a pallavolo e molta altra gente ieri sera si sono riuniti in chiesa per il rosario e poi l'hotel Principe di Pesaro che è da abbattere Ricci, il sindaco accelera la proprietà incontra appunto il sindaco e De Regis si parla della Pesaro del futuro in questo articolo l'assessore parla di volontà di arrivare ad un risultato e poi tanti saluti dicevamo al bel novembre da domani torna la pioggia e il freddo prima una passata di Garbino poi un'irruzione di aria polare la protezione civile mette in guardia dalle raffiche di vento arriva la prima neve anche sui monti e poi i controlli controlli a tappeto sui titolari di permessi di soggiorno c'è questo allarme generalizzato c'è questa paura soprattutto a Roma, Milano queste grandi città ma anche dalle nostre parti insomma forze dell'ordine sono mobilitate comunque per monitorare la comunità araba poi andiamo sulla pagina invece di Fano adesso del resto del Carlino anzi un passaggio solo su quella di Pesaro per questo murale se lo vedete cancellato su ciclone polemica città divisa è stato un errore oppure un atto vandalico Belloni dice la rimozione è illegittima nessun ordine è partito dal comune dicevamo allora la pagina di Fano eccola qua ospedale unico si parla di ospedale unico baricentrico a Fenile la posizione di Fenile per qualcuno è la vera soluzione il punto ottimale per gli abitanti di 30 comuni la tesi geografica è dell'ingegner La Torre per invece forse sei ore sarebbe la scelta peggiore con ambulanze che corrono tra due ali di auto e tra i bagnanti e il dibattito pro e contro seri è ormai battaglia sul appunto sull'ospedale sull'ospedale unico l'altra pagina di Fano invece si occupa pagina 14 le tendenze la nuova frontiera delle due ruote un tour operator si specializza nel cicloturismo noi proporremo percorsi ad hoc ma servono hotel attrezzati c'è un solo bike hotel segnalato in tutta la città ed un altro a Marotta poi la vecchia Fano la vecchia Fano raccontata attraverso gli scatti militari domani alle 17 c'è l'inaugurazione della mostra nell'ex chiesa di San Michele vicino all'arco d'Augusto una mostra fotografica della fondazione Carifano da mostra mercato a festival culturale invece l'altra pagina del resto del carlino siamo a Cartoceto un salto di qualità il sindaco Rossi traccia il bilancio a fine manifestazione cambiamo adesso giornale e andiamo a leggere il messaggero messaggero che in primo piano mette le strade la viabilità il comune vorrebbe investire 7 milioni di euro per sistemare la viabilità e 3 scuole 3 milioni per le scuole le risorse grazie alla fusione con Monbaroccio e a Villa San Martino Villa San Martino chiede delle opere turni di notte invece ma non c'era quindi è stata condannata una dottoressa due anni per truffa ad un medico del pronto soccorso lei dice solo un errore poi le pagine interne sui trasporti pubblici ancora tagli tagli per 3,2 milioni la CISL dice siamo al collasso motivo invece aggiunge non è stato raggiunto il target dei passeggeri per salvare posti e servizi serve l'azienda unica poi da Pesaro mare subito risorse contro l'erosione agli stati generali del turismo i bagnini sono pronti a battere cassa a comune regione attesa per le risposte dell'assessore Pieroni intesa massima intesa di massima degli operatori per allungare la stagione e anticiparla in primavera Sel dice no invece alle frecce tricolori che sono state annunciate ieri dal sindaco di Pesaro Villa San Martino un piano per rinascere il quartiere chiede una piazza tre parchi e un centro civico con parte delle risorse sbloccate grazie alla fusione appunto come dicevamo dei comuni di Pesaro e Monbaroccio poi sul nuovo ospedale nello scontro a due nello scontro a due spunta adesso anche Vallefoglia il sindaco Ucchielli dice non possono decidere solo Pesaro Fano il presidente della provincia convochi tutti gli amministratori la pagina di Fano del messaggero invece il Tar stringe i tempi per il nuovo casello niente sospensiva ma dibattimento nel merito a breve il tribunale deciderà sul ricorso del comune contro il no di due ministeri sulla realizzazione appunto del del nuovo casello poi cresce la povertà triplicati in tre anni gli aiuti della Caritas ben 150 mila euro per contribuire a pagare affitti bollette e farmaci emerge un quadro allarmante nel dossier presentato ieri dall'ufficio di Ocesano qui vedete la foto di Angiolo Farnetti che è appunto il direttore il presidente insomma il direttore colui che coordina la Caritas della città di Fano cambiamo giornale e andiamo per chiudere la nostra rassegna stampa al Corriere Adriatico la pagina delle Marche è possibile cambiare i confini della regione i confini delle Marche domani il presidente Luca Ceriscioli incontra a Perugia i governatori di Toscana e Umbria per progettare una maxiregione appuntamento in comune poi alle 15 bilancio in sala giunta per raccontare i risultati di questo summit di questo incontro poi dalla pagina di Pesaro è pronto il maxipiano delle asfaltature Belloni siamo sulla pagina di Pesaro oltre 7 milioni per strade marciapiedi e ciclabili nei quartieri e nei borghi storici andiamo sull'altra pagina adesso invece del corriere adriatico a Sestino panico per l'esplosione al metanodotto dopo il boato scoppia un incendio case al freddo per la rottura di una tratta e anche qui poi gli incidenti gli incidenti a raffica anche nella giornata di ieri feriti uno scooterista e un motociclista sempre appeso Raffano invece la pagina di Fano apre con la patologia che colpisce tante persone quella del gioco una piaga nascosta sono 101 quelli in carico all'area vasta numero 1 ma la stima in provincia è di 7 mila soggetti fenomeno che purtroppo quello del gioco è in aumento coinvolte tutte le fasce d'età si fa prevenzione a scuola e anche nei centri sociali ma l'unico rimedio è il divieto Fosso Segiore Minardi sconfessato da Noi Città il consigliere regionale rilancia il sito già contestato la lista civica dice avanti con tutta la cittadinanza contro scelte di poco senso civico l'altra pagina di Fano del Corriere paga l'auto usata con un assegno falso denunciato un cinquantenne che raggira una donna fanese il contratto è stato stipulato via internet e poi ci sono garanzie per la Saipem che ha la sede a Fano le dà il consigliere regionale Renato Claudio Minardi e poi il bilancio sul bilancio di Fano nel gota dei sei comuni più bravi c'è questo Oscar per la metodologia innovativa poi poste di mezzate siamo a Serra Sant'Abbondio sempre la pagina di Fano e Valle del Cesano del Corriere le poste di mezzate il Tar rimanda al merito sulla raccolta dei rifiuti invece di San Lorenzo in campo l'amministrazione è immobile cambiamo e andiamo per finire la nostra assegna sulla pagina di Senigallia la cronaca in primo piano ladri in fuga con la cassaforte e con le slot machine colpi a segno in un appartamento di via Feltrini e sull'edicola della stazione ferroviaria mentre sotto un'anziana è stata scippata da due giovani in scooter l'episodio in via Piave a Senigallia sul posto subito accorse la polizia e i carabinieri ma nessuna traccia dei malviventi e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per la vostra attenzione a voi tutti l'augurio di una buona giornata arrivederci grazie a tutti